Salve a tutti ragazzi, questo qua non è un video di recensione, ma è un video per un forum, ovvero Best Design, che vi mostro il bug che ho avuto in FIFA 13. Allora, come vedete, non riesco a proseguire, vedete, si vede, si vede la macchia, vabbè io, lo faccio per andare giù, ho perso C'are A, e nulla, proprio perché giocavo contro il Washburn, forza la mia, boh, questo è tutto. Ancora, ma niente, ricomincio con un'altra foto. Salve a tutti.